Galileo Galilei dicevano che il libro della natura è scritto a caratteri matematici e questi caratteri erano triangoli cerchi e figure geometriche domanda filosofica la matematica che cos'è è qualcosa che esiste in natura o è un'invenzione umana per descrivere la natura cioè i numeri e le relazioni matematiche sono state scoperte o sono state inventate come un linguaggio umano tu come la vedi io la vedo forse pragmaticamente meno romanticamente come proprio un'invenzione in qualche modo cioè l'uomo voleva descrivere la natura ha iniziato a strarre dei concetti come il concetto di quantità ciò degli oggetti inizia a contarli per avere un concetto di quantità e così via inizi inizio a avere concetti inizio a avere concetto lunghezza inizio a creare concetto di dimensione e poi vado avanti almeno se io la penso attualmente è pure così che noi facciamo ricerca attualmente non è cioè noi sviluppiamo su dei presupposti e ci inventiamo delle nuove teorie con un'idea di fondo magari perché la natura ci dà delle intuizioni perché stiamo cercando di descrivere dei fenomeni però non lo so io la vedo un po' così è chiaro che forse meno romantica dell'altra visione allora corollario alla domanda se la matematica è uno strumento culturale poteva venire sviluppata in maniera diversa da come oggi sicuramente secondo me quello che noi abbiamo oggi perché la natura intorno a noi ci ha portato a svilupparla in questa maniera le matematiche non sono uniche si è visto anche nell'idea delle geometrie le geometrie sono cambiate si parte da geometrica oclidea poi abbiamo iniziato a sviluppare delle nuove geometrie dove magari due rette si possono sempre incontrare mentre la geometria equidea possiamo avere due rette parallele le due rette parallele non si incontrano mai perché abbiamo iniziato a sviluppare nuove geometrie perché in verità ci sono geometrie diverse la terra è una sfera non è piatta e quindi la geometria sulla sfera è diversa la geometria equidea e così via quindi io penso che quello che noi abbiamo adesso è proprio perché la natura intorno a noi ci ha portato a sviluppare un certo tipo di matematica e di nuovo matematica è una teoria assiomatica noi siamo partiti da una certa famiglia di assiomi per sviluppare quello che abbiamo adesso magari fossimo stati su un altro pianeta avremmo sviluppato assiomi diversi e dalla matematica sarebbe stata diversa naturalmente naturalmente dai tempi di galileo la matematica è evoluta ed è diventata uno strumento più complesso no allora visto che i caratteri matematici del libro della natura di galileo erano figure geometriche come triangoli e cerchi oggi quei caratteri matematici fondamentali sono sempre secondo te triangoli e cerchi o sono strumenti più complessi come non lo so equazioni differenziali alle derivate parziali di cui tu ti occupi di cosa è scritto oggi il libro della natura sicuramente penso sia più complesso sicuramente questi quello che menzionava galileo c'è c'era e c'è tuttora però appunto se come come descriviamo i pianeti diciamo momenti insomma i pianeti o comunque la geometria dello spazio bisogna scrivere delle equazioni di Einstein come scriviamo momenti di un fluido dentro un tubo perché l'aereo vola sono equazioni di fluidodinamica sono delle formule ben più complesse basate sul derivate le parziale qualsiasi delle date parziali quindi già sviluppare più nel calcolo infinitesimale poi da lì sviluppare comunque queste varie l'idea di derivate su più variabili e da lì poi svilupparne tutta la matematica che è avvenuta negli altri 300 anni da quando a volte le equazioni sono state scritte a quando sono state studiate e diciamo in maniera moderna e sicuramente il mondo della natura ci ha mostrato che in verità non bastano quelle figure geometriche per descriverlo sicuramente le fanno parte però c'è molto molto di più. Allora a noi ci fa piacere affidarci a persone come te che questo libro lo sanno sfogliare lo sanno leggere per noi e magari sanno anche scriverne pagine nuove. Alessio ti ringrazio moltissimo per questa bellissima chiacchierata e ci diamo appuntamento allora a Padova il 25 maggio dove terai una lezione pubblica e sarà nostro piacere venire ad ascoltarti. Grazie mille, è stato un piacere. Ciao.